In alcuni paesi frodo-samo-vidiali si canta il ramadan, ma nel golfo campano-afrodisiaco si canta Ram-Mir-Nar. Ram-Mir-Nar, si no tu mette tutto quanto in culo, Ram-Mir-Sord, Ram-Mir-Sord, Ram-Mir-Sord. Ram-Mir-Nar, si no tu mette tutto quanto in terremoto, Ram-Mir-Nar, si no tu mette tutto quanto in culo, Ram-Mir-Nar. Ram-Mir-Nar, si no tu mette tutto quanto in culo, Ram-Mir-Nar, si no tu mette tutto quanto in culo, Ram-Mir-Nar. Ram-Mir-Nar, si no tu mette tutto quanto in culo, Ram-Mir-Nar. Ram-Mir-Nar, si no tu mette tutto quanto in culo, Ram-Mir-Nar. Tutti adesso danzano in questa messa rituale che è la prognosi, una danza che viene ballata qui tra indiani cauchu della gomma e i petrodollari che è un'altra razza vicino ai fratelli cugini di campagna, si accoppiano insieme per fare il ballo del Vaitin Du, una danza molto polare qui nella rabbia esaudita, sai tu, quattro fratelli si intrinzicano in una sola spole e danzano, sentite i tacchi? I tacchi sono stati forniti dalla ditta Samoni che qui ha una gazza di esportazione impressionante che è affiliata col principe Alamane Ale 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 Ale, il cognome è Samud, sono ingroppati per sintomi di disadrome e vanno avanti finquanto non sono intromati insieme e sono sincopi. Lo sposo e la sposa adesso in questo momento si baciano, non slinguettano ma si scambiano dei doni, lui dona a lei lei e lei dona a lui un lui e a questo punto la cerimonia diventa più complicata perché tra le vestizioni i frammenti polaroid che vengono esagomati c'è un burdel, c'è un grandissimo burdel contro la tosse, pigliate pastiglie e colia, piglio cazzo e porta via. Ci siamo alloffiati in fondo non per sembrare incapaci del nostro lavoro ma bensì per mancanze di idee che vengono come sempre i nostri LP degli squadron famosi in tutto il mondo per queste eccedenze di viperi e qui il petrolio viene esportato come sapete sia per via anale che per via orale la notte ogni orinale viene riempito di bobbo, babbo, mamma e se lo sposo ha difficoltà nel parlare lo intervistiamo. Principe Sabin, com'è che le ha sposato la signorina? Alabba, Bubba, Samanda, Bubba, Agiaiavà, Agiaiavà. La proposta sposa invece è ormai distante, ormai cerchiamo di raggiungere la... Predibis, predibissa, predibissa, predibissa.